Ciao, questa è Imola e io sono... no, non siamo qui per parlare di me, ma per parlare di un ragazzo. Un ragazzo che potrei definire simpatico, fantasioso, intelligente, ma soprattutto produttivo. Vabbè, non oggi. Eccolo, Luca, una persona molto abitudinaria. Prima di tutto, dà un bacio al suo vero amore. Presidente, poi si dirige, come ogni mattina, verso la cabina armadio. Dovete sapere che Luca è una persona, come dire, eccentrica nel vestire. Luca, così mi sembra esagerato, dai! Che posa! E che sguardo sexy! Vatti a cambiare, forza! E ricordati che l'abito non fa al monaco. Ma sei serio? Prendi in giro? No, non va bene. Vatti a cambiare, per favore, dai. Carnevale domani, mettiti qualcosa di elegante che dobbiamo andare. Forza! Oh, così sì, mi piace. Andiamo! Intanto che Luca scende le scale, ne approfitto per raccontarvi una delle sue più grandi passioni. Collezionare plastica! Ho visto che oggi ne hai raccolta tanta di roba, eh? Complimenti! Certo che se la gente fosse un po' più come te e meno, diciamo, oh, che fai? Ma ti pare? Boh, io veramente la gente non la capisco più. Ogni volta è un colpo al cuore. Bello questo progetto, sembra interessante. Ti sta venendo un'idea, vero? Sì. Eccola l'idea geniale! Vai, sono pronta, dimmi cosa sta succedendo. Che fai? Dove stiamo andando? Collezioniamo anche bici adesso? Ma perché sono sempre l'ultima a sapere le cose? Oh, per fortuna siamo arrivati. Dovresti andare un po' più piano, veramente. Ok, adesso so come funziona. Ti lascio fare. Buon lavoro, genio! È veramente bello. Ottimo lavoro. Sono veramente stupita, senza parole. Ma ora? Andiamo a farla vedere a tutti, vero? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, per chi non l'avesse ancora capito, io sono Fanta, la lattina. Spero che Luca vi abbia convinti a seguirlo nel suo hobby e conto di rivedere tutti voi all'isola ecologica e perché no, magari di vivere un'avventura con ognuno di voi. PS, dovreste vedere i muscoli che Luca ha messo su da quando giriamo in bici. Buon carnevale a tutti e alla prossima! Grazie a tutti. So, let's get it. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.